Raddoppia l'anticipazione della tutela legale alle forze dell'ordine passando da 5.000 a 10.000 euro. Il contributo vale per ciascuna fase di giudizio e si estende ai vigili del fuoco. Questo è il risultato dell'emendamento legal DDL Sicurezza. A darne notizia il deputato Stefano Candiani che sul punto è impegnato da molto tempo e che ringrazia per il gioco di squadra i sottosegretari Nicola Molteni, interno, e Andrea Ostellari, giustizia. Non vedremo più i servitori dello Stato in divisa affrontare proprie spese e costosi processi per cause di servizio, afferma il parlamentare tradatese. Il primo plauso arriva da Conapo, sindacato dei vigili del fuoco. Finalmente i nostri operatori non dovranno più caricarsi personalmente le spese di processi che, il più delle volte, ci vedono prosciolti.